Riscontrati nella serata di ieri tre nuovi casi di coronavirus nel Cilento, i contagi riguardano i paesi di Ogliastro Cilento, Capaccio Pestume e Pisciotta. Ad Ogliastro a risultare positivo al covid è un uomo di 53 anni originario di Milano ma residente nel paese cilentano. L'uomo martedì dopo aver accusato dei problemi di salute si è recato in pronto soccorso presso l'ospedale di Agropoli. In seguito a ciò è stato ricoverato nel presidio per problemi personali di salute e come da prassi è stato sottoposto a tampone del quale ieri si è venuti a conoscenza del risultato. L'asla ha disposto diversi tamponi e misure di isolamento fiduciario sul personale sanitario della struttura agropolese per evitare il propagarsi ipotetico del virus. Ora l'uomo si trova presso l'ospedale di Scafati dove è stato trasferito, ricostruita anche la catena dei contatti dell'uomo. Il dipartimento di prevenzione provvederà ad effettuare vari esami dei tamponi. I due casi di Capaccio Pestume e Pisciotta invece sono legati a rientri dall'estero nella città amministrata da Franco Alfieri ad essere contagiata dal coronavirus è una donna straniera rientrata dalla Tunisia. La donna è stata posta in quarantena insieme ai familiari, già ricostruita anche per questo caso la catena dei contatti. A Pisciotta, come annunciato dal sindaco Ettore Liguori, si tratta di una donna proveniente dall'Ucraina che assiste un'anziana del posto in isolamento dal suo rientro in Italia dallo scorso sabato. In seguito alla positività al covid riscontrata ieri sera sono stati disposti i tamponi sugli unici due contatti che ha avuto la donna dal suo rientro.